Bene, noi ci siamo permessi di approvare una proposta di legge che porteremo prima in Consiglio regionale ma che è diretta al Parlamento italiano. Sapete che le regioni possono fare proposte di legge per il Parlamento italiano perché le adottino. Abbiamo varato due proposte di legge che approveremo in Consiglio regionale, una che riguarda le procedure di gara e un'altra che riguarda l'abuso d'ufficio proprio per fare in modo che le opere che scriveremo sulla carta per il piano europeo poi vadano avanti e non si fermino per strada. La proposta che riguarda le procedure di gara è questa. Proponiamo un meccanismo per cui una volta giudicata un'opera, l'opera non si fermi al Tribunale amministrativo, al Consiglio di Stato per i ricorsi che ormai vengono fatti ogni volta che si fa una gara ai Tribunali amministrativi. La proposta che fa la Regione è che quando si affida un'opera si consegna un'opera, l'opera va avanti e non si ferma. Se poi il ricorrente ha ragione ha diritto ad avere un risarcimento economico e quindi nel quadro economico delle diverse opere che si mettono in gara bisogna prevedere una voce per gli imprevisti, come per direi idrogeologici, si prevede una quota per eventuali contenziosi. E così stiamo tranquilli che una volta appaltata l'opera, l'opera va avanti e non si ferma nei Tribunali amministrativi. La seconda proposta di legge che abbiamo mandato al Consiglio regionale e poi ovviamente è indirizzata dal governo al Parlamento italiano, è quella che riguarda una definizione ancora più precisa dell'abuso in atto d'ufficio, che libera da questa angoscia i funzionari pubblici, salvo che per responsabilità diretta e volontaria, salvo che non si sia voluto mettere in piedi un meccanismo corruttivo, ma per altre cose i funzionari pubblici non possono rispondere. Sono due proposte di legge dirette al Parlamento che credo possano essere decisive per fare andare avanti i lavori nel nostro Paese.